ciao a tutte allora vediamo questo è un video tecnica veramente velocissimo ma credo molto pratico e utile per chi inizia a lavorare a fare lavori a maglia è un il borda i corde ma la rifinitura ai corde nei nostri capi in questo caso io vi faccio vedere una rifinitura di uno scialle poi al limite vedremo anche la rifinitura per un capospalla ovvero si termina e si inizia il lavoro con questa rifinitura che sul dritto è così quindi la vediamo in questo modo e sul rovescio del lavoro ci dà proprio un aspetto pulito e rifinito in questo caso è uno scialle ma se pensiamo a una maglia possiamo avere tipo una giacchina chanel piuttosto che anche una sciarpa che spesso lamentiamo che si arrotola sui bordi quando andiamo a lavorare possiamo rifinirla con una corde iniziando proprio dalla base in modo che abbiamo tutta la rifinitura e il nostro lavoro è pulito e preciso adesso vediamo come fare nel mio caso io vi farò vedere la l'avvio di questo scialle perché poi l'andremo a fare assieme in un secondo tempo questo è uno scialle lavorato appunto tessuto con due colori e io l'ho voluto realizzare da partendo dalla punta quindi lo scialle non verrà simmetrico verrà e sarà uno scialle asimmetrico iniziato da un'estremità per finire poi a un'altra per cui ho necessità di veramente poche maglie in questo caso ho iniziato con nove maglie come solitamente si inizia uno scialle solitamente io almeno lo faccio in questo modo quindi ho calcolato le mie tre maglie di icord a destra tre maglie di icord a sinistra e le tre maglie del corpo che poi andranno a crescere man mano io farò gli aumenti quindi supponiamo in questo caso che noi dobbiamo avere nove maglie sul ferro perché sei destinate all'icord quindi alla nostra rifinitura e tre maglie destinate al corpo io prendo i ferri di lavorazione prendo un il capo del mio filo ed inizio a lavorare l'icord se avete i ferri a doppia punta sono molto più semplici molto più comodi per realizzare l'icord adesso andiamo a vedere montiamo tre maglie sul ferro quindi una due e tre cerchiamo di non lavorare troppo stretto perché altrimenti poi avremo difficoltà nel riprendere le maglie io qui faccio un nodino per fermare il capo della codina e il capo proprio del filato che sto utilizzando ed inizio subito a lavorare l'icord se ho il ferro a doppia punta non devo fare altro che far scivolare tutte le tre maglie sull'estremità sinistra quindi piuttosto che lavorare da destra andrò a lavorare sulla sinistra e vado a lavorare le tre maglie con il filo che arriva da sinistra quindi se io avessi iniziato il lavoro in modo normale io avrei iniziato a lavorare in questo modo per l'icord e devo sempre lavorare le maglie con il filo che arriva dalla parte opposta quindi faccio scivolare tutte e tre le mie maglie e vado a lavorare le tre maglie dall'ultima alla prima e lavoro tre maglie quindi 1 2 e 3 ho quindi fatto il mio primo giro io devo farne quattro faccio scivolare nuovamente le maglie e lavoro il secondo giro faccio scivolare nuovamente le maglie lavoro il terzo giro ora se io non avessi avuto a disposizione i ferri a doppia punta vi faccio vedere nel quarto giro come poter procedere con dei ferri normali quindi che siano lineari perché con i ferri comunque circolare si può far scivolare tutto il lavoro se io lavoro con i ferri lineari io non faccio altro che prendere tutte e tre le maglie passarle sul mio ferro vuoto il ferro lineare e andare a lavorare normalmente e così ho fatto il mio quarto giro quindi il principio dell'icord qual è la lavorazione e la costruzione lavorare sempre con il ferro che con il filo che arriva da sinistra lavorare l'ultima maglia quindi in modo opposto per cui ferri a doppia punta credo che ormai chi lavora li abbia un po li abbiano un po tutti se voi non doveste averli potete semplicemente o passare le maglie nel modo in cui vi ho fatto vedere da un ferro all'altro in modo che poi lavorate con il filo che arriva dalla parte opposta adesso il nostro lavoro inizia con nove maglie ok quindi ho fatto adesso questo mio primo pezzettino è in sostanza la base del mio lavoro ovviamente io inizio con una base piccola se fosse stata una maglia avremmo fatto una i cordi di tante maglie di tanti giri quante sono le maglie del nostro pannello io ora devo andare a recuperare le nove maglie sul mio icord e farò in questo modo ne andrò a recuperare tre qui sulla base e altre tre sotto e al lato se avete difficoltà a farlo a recuperare le maglie con il ferro io vi faccio vedere direttamente con l'uncinetto come fare perché non ha senso poi disperarsi con l'altro ferro quindi voi prendete un uncinetto adesso mi avvicino un pochino ecco voi prendete un uncinetto questo è il vostro ai corte lo mettete così capovolto di lato entrate con l'uncinetto all'interno di tutte e due i lembi delle maglie e andate a recuperare una maglia recuperate la seconda e recuperate la terza questo tutto sul bordo dell'ai corte io procedo in questo modo le tre maglie me le vado a riportare sul ferro e poi vado a recuperare le altre tre maglie perché io devo averne 9 quindi ora vado sull'estremità individuo una maglia da poter formare che quella che sta proprio sopra al mio nodino e adesso giro completamente il mio lavoro e vado qui sotto a prendere le altre due quindi sono una e due entriamo così che forse ci facilita il passaggio del filo ed ho le mie 9 maglie d'inizio sul ferro e saranno tre destinate all'ai corte di destra di sinistra 3 di sinistra e 3 del corpo del mio scialle se voi vedete adesso l'ai corte una volta che io qui ho ripreso le maglie si presenta o per la eccolo qui si presenta dal dritto per cui adesso arrivando con il ferro il filo che mi arriva da sinistra devo andare a lavorare sul rovescio del lavoro ok io questo è il mio ai corte e qui vedo che il lavoro è al dritto quindi è normale che io adesso devo andare a lavorare sul rovescio inizio subito con l'ai cord e sul rovescio del lavoro passo le prime tre maglie senza lavorarle quindi una due e tre vado direttamente a lavorare la quarta maglia al rovescio lavoro la quarta lavoro la quinta e lavoro la sesta maglia le ultime tre maglie io le passo quindi le passo con il filo sul rovescio prendendole al rovescio in questo modo torno sul diritto e lavoro le mie prime tre maglie con il filo vedete che arriva dall'ultima maglia quindi adesso dietro inizia a formarsi il mio ai corte quindi 123 io adesso lavoro normalmente sul dritto 4 5 6 7 8 e 9 torno sul rovescio oppela aspettate che allontano un po torno sul rovescio del mio lavoro e faccio esattamente quello che ho fatto nel primo giro quindi il sistema per lavorare l'ai corda a destra a sinistra sarà sempre lo stesso non lavoro le prime tre maglie quindi le passo come se le stessi lavorando al rovescio ed inizio a lavorare dalla quarta maglia le ultime tre maglie non le lavoro e le passo senza lavorarle al rovescio mi riporto sul dritto e lavoro le mie prime tre maglie lavoro il corpo e lavoro le ultime tre maglie ecco qui che io dietro già tutto il mio ai corte che si sta formando che è congiunto a quello della base dell'inizio del mio scialle quindi adesso dopo aver fatto due o tre giri io poi vi dirò esattamente quanti giri io qui ho fatto per avviare il nostro scialle lavoriamo nuovamente un giro sul rovescio del lavoro quindi passiamo le nostre prime tre maglie senza lavorarle ed iniziamo dalla quarta maglia e lavoriamo senza lavorare le ultime tre passandole al rovescio ora io sono sul dritto del lavoro e devo decidere su quale lato andare a fare i miei aumenti perché perché in questo caso io ho lavorato il mio scialle aumentando solo sul lato per me è più comodo aumentare sulla sinistra in modo che la prima maglia è quella che deve essere un aumento ok quindi io per praticità mi vado per praticità mi segno comunque il lato nel quale ho deciso di fare gli aumenti e pian piano vado a spostare il mio marca punto perché purtroppo è facile specialmente all'inizio confondersi quindi aumentare sul lato piuttosto che su un altro una volta arrivata a questo punto io adesso ho deciso che da qui inizio ad aumentare quindi lavoro le mie tre maglie che dietro non ho lavorato faccio un gettato quindi questo sarà il mio aumento e lavoro tutte le maglie fino alla fine mi ricordo sempre che le prime maglie sul rovescio non devo lavorarle quindi volto il mio lavoro le prime tre maglie non le lavoro quindi faccio 1 2 e 3 e lavoro dalla quarta ok quindi inizio a lavorare dalla quarta e arrivo sino alla maglia che io ho aumentato la maglia che ho aumentato io la vado a prendere in modo ritorto questo perché perché se io la lavorassi al rovescio normale mi si andrebbero a formare dei buchini questi buchini nello scialle classico quello triangolare dove noi facciamo gli aumenti sono anche decorativi in questo tipo di lavoro qui a me non piace che si vedano questi forellini quindi io lavoro adesso questa maglia che ho gettato in modo ritorto mi avvicino un po e cerco di farvi vedere meglio quindi la mia maglia si presenta in questo modo io vado a prendere il cappio per entrare con il ferro dal dietro con l'indice cerco di far scivolare appena il gettato quindi entro sul retro della maglia qui e la vado a lavorare al rovescio le ultime tre maglie non le lavoro volto nuovamente il lavoro lavoro le prime tre maglie quindi 1 2 e 3 e qui ripeterò il mio aumento quindi faccio un gettato e lavoro fino alla fine lavoro fino alla fine e sul rovescio del lavoro ripeto sempre le tre maglie sospese quindi prendo le maglie come se stessi lavorando al rovescio le prime tre maglie inizio a lavorare dalla quarta mi fermo dove ho l'aumento che ho fatto sul dritto del lavoro e qui faccio attenzione a prenderlo sempre in modo ritorto così quindi io entro se io avessi lavorato in modo normale l'avrei preso qui davanti io non devo prenderlo davanti io devo prenderlo sul retro quindi entro col ferro lavoro e non lavoro le ultime tre volto nuovamente e ripeto la stessa cosa in modo che faccio crescere il mio lavoro su un solo lato gli aumenti li farò ad ogni giro e su questo lato invece io non lavoro faccio solo la ricorda quindi sul dritto lavoro le tre maglie che ho lasciato in sospeso sul rovescio prendo tre maglie e le passo sul ferro vuoto che ho sulla sinistra lasciandole senza nessuna lavorazione spero di essere stata chiara almeno per l'avvio questo tipo di rifinitura perché per me è una rifinitura è utilissima per chi inizia uno scialle per chi inizia una sciarpa e spesso lamenta che i bordi si arrotolano può anche iniziare nel modo tradizionale aggiungendo ai suoi al numero di lavorazione della sciarpa 3 maglie a destra e 3 maglie a sinistra e iniziando subito dal primo giro a lavorare la i corde per come vi ho fatto vedere senza aumenti e senza nulla quindi considerando sempre le prime tre maglie sul rovescio passate e poi lavorate sul diritto e così si andrà a formare il nostro ai corde che ci darà una rifinitura a tutto il nostro lavoro a qualsiasi tipo di lavoro ovviamente una piccolissima raccomandazione per chi tende come me a lavorare con una mano piuttosto ferma quindi con una tensione abbastanza alta regolare prima di tutto la tensione quindi cercare di essere un pochino più morbidi nella lavorazione delle prime delle prime tre maglie altrimenti potete ovviare e fare un'altra cosa piuttosto che lavorare la maglia e chiuderla in modo stretto ecco così come si lavora solitamente cercate di lasciare il cappiolino appena appena più più morbido quindi lavorando facendo questo gesto lavorando il cappio lasciandolo appena più morbido in modo che il nostro ai corde sarà più non tenderà a a stringere e attirare quando è finita la lavorazione ora vi faccio vedere sullo scialle che io sto facendo e che vi ripeto poi andremo a a fare assieme se si tira il tira tutto il lavoro quindi una volta che noi arriviamo vedete questo è il mio scialle sta crescendo in questo modo l'avvio è questo io man mano ho aumentato ad ogni giro questa poi la lavorazione che andremo a vedere assieme guardate qui non sono stata sufficientemente attenta a non al a lasciare abbastanza aspettate che allontano un po a lasciare abbastanza morbido laicord quindi ha leggermente tirato e si vede poi con un giusto bloccaggio e con un lavaggio sicuramente io lo rimetterò lo rimetterò a posto però può succedere che poi la lavorazione venga proprio male e che lei corde tiri specialmente se noi abbiamo una mano che tende a attirare troppo per cui le cose a cui fare attenzione sono queste essenzialmente una sola lavorare il gettato in modo ritorto in modo che qui non si formino dei buchini cercando anche il gettato di non lavorarlo troppo con una tensione eccessiva e lasciando appena appena i tre punti dell'icord un po più morbidi in modo che una volta che noi tendiamo il lavoro sta insomma sta per come deve stare perché altrimenti ecco vedete io purtroppo questo specialmente se lavoro veloce questa cosa mi succede spesso e questa cosa non dovrebbe succedere perché poi ai fini della lavorazione può esserci qualche problema di anche se poi si mette in forma però così non va bene queste piegoline e questo leggero questa tensione che c'è in più non dovrebbero esserci io spero di esservi stata utile voi iniziate intanto a provare l'avvio dell'icord e poi andremo a vedere come si realizza questo punto tessuto bellissimo almeno a mio modo di vedere e come con un gioco di righe e di colori che voi potete anche alternare andare a fare uno scialle asimmetrico facendo solo degli aumenti questo ora non si vede bene però insomma è quasi finito e poi lo andremo a vedere nella totalità in un'altra in un altro video io per il momento vi saluto spero di esservi stata utile mi auguro che questo video possa essere utile a qualcuno vi chiedo sempre se questo se qualora lo fosse stato utile intendo di lasciarmi un like o un commento qualsiasi cosa perché mi aiutano molto a far crescere il mio canale ad avere più visibilità quindi arrivare a più persone se non vi è piaciuto fa lo stesso vi lascio tutti gli indirizzi e tutte le tutte le indicazioni sotto nell'infobox e ci vediamo la prossima settimana con la realizzazione dello scialle ciao a tutte